Strategi aria interna con la sua programmazione può e deve essere strumento per far ripartire velocemente il Vallo di Diano dopo l'emergenza pandemica. Si è partiti da questa riflessione venerdì scorso 23 maggio nel corso della conferenza dei sindaci proposta dal presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta per fare il punto sull'attuale situazione in cui il territorio dopo il lockdown. Il sì no sì all'inserimento dei comuni valdianesi nella ripartizione dei fondi governativi riservati alle zone rosse non aiuta il tessuto economico. Ecco quindi che è necessario darsi da fare per aiutare le imprese locali ed in particolare le attività operanti del settore turistico che hanno necessità di ripartire nel breve periodo. Il presidente dell'ente montano Accetta ha sottolineato a tal proposito che indipendentemente dalle decisioni del Mise riguardanti il Vallo di Diano è necessario comunque adoperarsi con misure che possono subito essere adottate. Idee che sono già sul tavolo grazie proprio alla programmazione della strategia delle aree interne. L'emergenza dettata dall'epidemia da SARS-CoV-2, dichiara il presidente della comunità montana Accetta, ha estremizzato ed evidenziato vecchie criticità e bisogni necessari soprattutto nelle aree interne. La pandemia può però segnare un punto di svolta. Attraverso la strategia nazionale delle aree interne sono stati programmati interventi per il potenziamento dei settori specifici quali sanità, mobilità, istruzione oltre al tema trasversale del turismo. La nostra proposta continua verte sulla necessità di incrementare da subito i finanziamenti su settori ritenuti oggi più che mai strategici. Di primario interesse per i sindaci del comprensorio il comparto produttivo ed imprenditoriale. Per le piccole e medie imprese dalla conferenza dei sindaci è emersa la volontà di richiedere che due interventi di sostegno alle imprese che operano nei settori turistici di produzione e artigianato già previsti dalla strategia aree interne siano immediatamente avviati sotto forma di aiuto alle imprese. In particolare, spiega Accetta, l'intervento a regia regionale denominato RegCamp 2.3 Club di prodotto e l'intervento RegCamp 4.2 Imprese culturali e creative. Nel corso dell'incontro di venerdì scorso si è inoltre parlato anche del tema della sanità con la richiesta dei sindaci di ampliare il finanziamento per la realizzazione dell'ospedale di comunità. Approfondite anche le tematiche legate all'istituzione del taxi sociale che poteva rivelarsi particolarmente utile in questa fase emergenziale se fosse stato già attivo. Il miglioramento delle linee telefoniche e la funzione associata di protezione civile che va necessariamente potenziata. Nel corso della conferenza dei sindaci si è poi registrato anche un passaggio sul turismo sostenibile e sicuro con il Vallo di Diano che può essere tra le mete ideali. Questo tema, dichiara in conclusione accetta, va affrontato subito insieme agli imprenditori del Vallo e alle istituzioni per poter formulare insieme una proposta turistica che sia subito spendibile.